Due dipendenti dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, addetti alla cucina, sono i destinatari di misure cautelari interdittive emesse dal GIP del Tribunale Nisseno perché accusati di assenteismo. Si tratta di Vincenzo Michele Grillo, 60 anni, e Giuseppe Biccini, 56. I provvedimenti sono stati eseguiti dai carabinieri del nucleo investigativo. Ai due è stata vietata l'attività professionale presso l'ospedale per la durata di nove mesi e adesso dovranno rispondere in concorso dei reati di truffa aggravata con abuso di relazioni d'ufficio e violazione dei doveri inerenti a pubblico servizio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, in diversi episodi, Grillo sarebbe risultato in servizio grazie all'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza, mentre non lo era. Biccini avrebbe avuto il badge del collega e timbrava orari di entrata e di uscita dal luogo di lavoro, secondo l'accusa, non corrispondenti a quelli effettivi. I due sarebbero stati incastrati dalle telecamere installate dai militari dell'arma nell'atrio della palazzina e sulla rampa di accesso alla cucina. Diverse le registrazioni di assenze non giustificate mediante uscite dall'ospedale durante l'orario di servizio. Diverse le registrazioni di assenze non giustificate mediante uscita dal luogo di servizio.